Sono stato molto incerto con un'opera così vasta e affascinante come quella di Goethe, perché ogni opera è un punto di riferimento. Il viaggio in Italia per tante ragioni, Goethe arriva fino a Palermo, gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister, quello che naturalmente è contato per la nostra letteratura, il giovane Werther, e così via. Non c'è opera di Goethe che non abbia segnato una svolta nella cultura europea. Le affinità elettive mi sono sembrate ad un tempo l'inizio di una storia nuova per il XIX secolo nel romanzo, un romanzo programma, persino potremmo dire un antessegnano del nouveau roman, e dall'altro lato però la conclusione di un lunghissimo capitolo del XVIII secolo, nel quale Goethe convoca tutte le scienze perché diventino narrazione, una sfida titanica che riesce e non riesce. Naturalmente è anche un romanzo che divide, amatissimo, specialmente nell'adolescenza perché materialmente si pensa alle affinità elettive, ma anche nella vecchiaia perché è un romanzo che proprio in questo suo finire precipitando, per così dire, precipitando verso la fine, suscita molti interrogativi di tipo narrativo. Difatti su questo testo si è esercitata la miglior critica europea da Thomas Mann a Benjamin, quindi vuol dire che anche per la cultura tedesca è stato un romanzo che ha segnato uno spartiacque. Dovrei pensare un po' intensamente, ma direi che nell'ultima pagina c'è un'esortazione di Ottilia Morente che per me rimane uno dei fulcri dell'opera di Goethe, cioè promettimi che vivrai. La promessa non sarà mantenuta, ma quello scatto nel punto di morire verso l'amato Edoardo, che è già in una situazione di crisi, è uno degli elementi di forza più decisivi del romanzo. È una storia anche lì di iniziazione e di formazione. Io sono un figlio della Bur a Centolire, e quindi nella Bur a Centolire il primo romanzo, credo, di Goethe intanto, che io abbia letto è stato il Wilhelm Meister. Ma il primo, diciamo in ordine cronologico, è stato un romanzo di Thomas Mann, in Buddenbrock, seguito quando poi uno cominciava ad entrare un po' più, con minore smarrimento nel Novecento, dalle poesie di Rilke. Ho visto che qui è stato evocato Sebald, è naturalmente un autore che bisogna percorrere. Come anche per la letteratura italiana, io sono, diciamo così, piuttosto attento all'ultimo quarto del secolo scorso. Su questo non so ancora dare dei giudizi. E quindi mi attengo, ecco, a grandi parabole, che sono anche testimoni non solo di poesia, ma anche delle lacerazioni del ventesimo secolo, come Paul Celan. Ecco, per me è proprio un compagno di via, lo porto con me costantemente. La biblioteca è molto in disordine, ma quando arrivo a quel palchetto so dove mettere le mani. Sono tantissime a partire dalle origini addirittura di queste letterature. Non c'è, credo, scrittura femminile in Europa prima di queste due straordinarie scrittrici, oltre che personalità importanti, che sono Roswitha di Gandersheim e Hildegard di Bingen. Poi questa continuità si accentua con, diciamo, la poesia e la teoria d'amore. Da qui abbiamo i provenzali dell'Aimine Sengher, ma insomma, la cosa... E poi diventa, direi, costante a partire dal Cavalirtour. Quindi fin dal Cinquecento non si può dimenticare che l'umanesimo paradossale, che poi ha in Erasmo il suo alfiere principe, nasce però con la nave dei Folli di Sebastian Brandt. Insomma, la Germania è sempre stata questa pepiniera magari di idee che poi sbocciano anche altrove o si consumano altrove, ecco. Grazie a tutti. Grazie a tutti.